Ciao a tutti e benvenuti sui miei TGP, My Magies of Lotus. Allora, in questa puntata parliamo del territorio al kabu, un drop a 2, un rosso in verde con domain e a forza e costituzione parla al numero di tipi di terra base che controlliamo, quindi potenzialmente un 5-5. Allora, la carta è fortissima, ha un effetto quando attacca, che possiamo scegliere una di queste due opzioni. Scartiamo una carta e peschiamo una carta, oppure esigliamo una carta ad un cimitero. La carta è veramente fortissima, il valore è niente, è veramente bassissimo in tutte le versioni e io consiglio di prenderla in tutte le versioni. Ovviamente se prendete la Old Layout Foil, che è questa qua, la pagate di più, però quando crescerà, se salirà la carta, salirà molto di più, questa versione ovviamente. La carta è fortissima, in Modern si gioca in qualche lista, ma secondo me ancora troppo poco, cioè si dovrebbe giocare di più per la forza della carta. E tra l'altro la potete mettere anche in Mazzi Commander, eccetera, soprattutto i 4-5 colori ovviamente, perché meno di 4-4 allora ha meno senso. E niente, però la cosa incredibile è il prezzo, il prezzo è veramente bassissimo in tutte le versioni, quindi per me è un investimento sicuro, io ne ho già comprati tanti, ne prenderò ancora. Sottigliezza, altra carta che vi ho consigliato più e più volte, non è ancora salita, siamo a 1800 copie, 1700 copie della versione regular, adesso sono arrivati altri box nei negozi di Modern Ryzen 2, quindi non sarà questo probabilmente il momento in cui salirà, però quando inizieranno a finire i box definitivamente, che non arriveranno più, e il momento credo che sia molto molto vicino, Sabelti salirà. Sicuramente perché comunque il suo prezzo è troppo basso rispetto a quanto si gioca, che non è una carta stragiocata, però si gioca più del prezzo che ha, paragonandolo. E comunque è una, in Commander, in Centurion è veramente quasi una Staples, nel senso che tanti deck la utilizzano, e in Modern è invece una Maybe Card in alcuni deck, quindi si gioca in alcune liste e non si gioca in altre, comunque ottimo acquisto. La terza carta è Weaver of Harmony, costa 2, 2-2 e le altre creature incantesimo prendono più o più uno, quindi magari non tutte perché le creature incantesimo, quindi Enchantment Creature, però la seconda abilità è molto interessante, tappiamo uno, tappiamo, copiamo un'attivata o un'innescata, che viene prodotta da una fonte incantesimo, e possiamo scegliere nuovi target. Ecco, questa abilità invece è forte, perché praticamente è tipo gli incantesimi che dicono quando entra esilia, li possiamo copiare, oppure l'incantesimo che sacrifica e distrugge, lo copiamo, e quindi diventa molto molto interessante. Allora, siamo giunti alla conclusione di questa Pills, lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate e attivate la campanella. Ciao!